Buongiorno No Benissimo Buonasera I miei mani I miei dito, ok? Oddio Oddio E togno Rattelto Figuriamoci Che cosa è successo? Era un feeling Mamma mia, faccia un disastro Mamma mia Oggi sono veramente un Disastro Casofatto Che cavallo Mi allontano un pochino Mi allontano un pochino Cristo Quanto fa casino Calmati Ultimi Oh 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 Cosa stai facendo? Stupidissima cantera Cosa stai facendo? Porca Da che prenda poco qualcosa Va bene Ehi Ah mio Madrona oggi Guardiamo se riesco Guardiamo se riesco Che cata che cata che cata chiara Che cata che stai facendo? Madonna Mamma mia chiara Oddio Oddio Tipo questo Ma 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 ho una parola Spegniti Maledizione Ma tu dimmi te No vabbè No vabbè Ti vuoi spegnere Maledizione No ho solo prenduto la candela Guardiamoci questo Comincio a fare il suono della zanzara Ma che disagio sta candela Aia Aia Che caos Le campane Perchè muoio d'ansia Estetica In base a ciò che vuoi veramente Nonno Buono Il livello Ma non prende Dio santo ma Mmm Quindi la scelta sarà fra Mmm Quindi la scelta sarà fra Ok Ok Non so capire la differenza Evito 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 le caratteristiche Parto un pochino dalla base Parto un pochino dalla base Questo che senti ora Sono contentissima Sono emozionantissima Sono emozionantissima What the fuck Sono emozionantissima Sono emozionantissima Ma che sto? In questo periodo abbiamo tutti un po' Più voglia di dolce E non ci vedo veramente nulla di In questo periodo abbiamo tutti un po' Perché comunque Chiara ha un viso abbastanza morbido Però È leggermente Guarda che gatto era Che hai ripetito quello Un gatto secondo me Questo video mi sta mettendo veramente a dura prova Mamma mia Mamma mia Questa bianca invece È un Non lo fare Qualunque cosa Sto facendo? No No Calma Ok Sono detto? Ah si Basta 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 No 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 Io comincerei dai capelli Mh Ma non si toglie Sto facendo il giro in tondo Dio mio Un attimo Cinque minuti e finisco il video Cinque minuti e finisco il video Condiscile Condiscile L'idea di condire Scusa Ok Sarà divertente Portare questo video Che difficoltà Ho pensato di prepararti un bagno Perché comunque Come faccio a non rendere una cosa sociale Non ci ho pensato Ecco Come dico questo che sei una mimica Ok Ok So Ti scozza che ti si vede il naso Gli dico di tagliarlo Lo taglia Ma dici sì Ma guarda Sì sì Però tanto po' per po' Così vedevano Ok Metti Così io non so Vedevano No No Non ti preoccupare Vabbè ma mi dico di tagliarlo Ma mi metti a fuoco Non ti sto simpatica oggi Ma mi avevi messo a fuoco per tutto il video Spero di no Ma io spero di essere stato a fuoco tutto il tempo Perché non fosse a fuoco lo sfondo Ma non è a fuoco Boh Ma Speriamo che ti devo dire Non mette a fuoco Fantastico Meravigliosa Videocamera Scusami ma Che cos'era? Che cosa è uscito dal mio corpo? Se segni Buonanotte Buonanotte Mi piccoli Madonna Pandori Panettone Buonanotte Mi piccoli pandori No Dopo il pandore Che la farà Ma che nessuno Lo caga Buonanotte Peccolini Un pasticcini Un bacione Ce l'hanno fatta Potreste dover mettere un pochino Verde Sono troppo rosa in questo video Ma porca loca Aspetta Stop Così sono troppo Così sono troppo Così sono troppo